Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Questa è una puntata davvero strepitosa perché abbiamo delle offerte veramente da non perdere, ma andiamo con ordine. Vi ricordo che Autofrancia è da sempre Fiat, quindi tutta la gamma Fiat Alfa Lancia Jeep in pronta consegna. Questo mese gli sconti fino a 7.000 euro, quindi sconti veramente pazzeschi sulle autovetture nuove. Ormai lo sapete, Autofrancia invece ha messo a vostra disposizione oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero con degli sconti pazzeschi, fino al 50% di risparmio dal prezzo di listino, quindi sconti veramente pazzeschi e se avete l'auto da rottamare, anche se acquistate un'autovettura d'occasione aziendale o chilometri zero, sconti fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. Potete chiaramente pagare per contanti, questo nessuno ve lo vieta, potete fare finanziamento anticipo zero le minerate che arrivano fino a 96 mesi, oppure potete sfruttare il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura con il TTC Autofrancia, tutto tutto compreso Autofrancia, cioè avete un canone mensile veramente bassissimo che concorderete con i nostri professionisti e non dovete pensare più a nulla. Siete coperti a 360 gradi da tutto il pacchetto sicurezza Autofrancia. Avete all'interno assicurazione furto incendio, attiva andalici, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, la casco, 5 anni di garanzia, chilometraggio illimitato, i tagliandi compresi, il cambio gomme, e quindi non pensate più a nulla. Qualunque cosa succeda sulla vostra autovettura siete coperti a 360 gradi e soprattutto il vostro investimento non si svaluta più. Quindi adesso restate con noi, ci trasferiamo nei padiglioni delle autovetture d'occasione aziendale chilometri zero, occhio perché ci sono delle offerte veramente da non perdere. Siamo nel primo padiglione dell'usato, partiamo subito con le offerte, parliamo di Peugeot 108, VT 1000 Active 68 cavalli, nuova chilometri zero, 10.500 euro, volendo anticipo zero, qui le rate superano di poco le 130 euro mensili. Se cercate una 500 abbiamo sia le chilometri zero che le aziendali e partono da 8.900 euro, parliamo delle 500 già le versioni più belle, Hyundai i10, login 1000 con impianto EcoGPL, anche questa nuova chilometri zero, solo 10.900 euro, volendo anche confinanziamento, 500 cabrio 1200, la versione S, quindi la versione sportiva, con bluetooth ha veramente tutto, ve la proponiamo, a 13.900 euro. 500 Abarth, 595 turismo, macchina dalle grandi emozioni, è nuova chilometri zero, solo 20.900 euro, volendo col pacchetto TTC, quindi con tutto compreso, anche l'assicurazione e tutto, poco più di 300 euro mensili, non avete più problemi. Lancia Y, ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione, nuove chilometri zero, partono da un prezzo spettacolare, solo 8.900 euro. Proseguiamo velocemente, parliamo di Peugeot, 2008, 1.6 HD, 100 cavalli, nuova chilometri zero, solo 16.500 euro. Se cercate una 500X, anche qui abbiamo tutto quello che volete, questa è una 500X, 1.4 turbo, 140 cavalli, la versione multi-air, ve la proponiamo, 18.800 euro, nuova chilometri zero. Casa Jeep, questa volta 2.000 turbodiesel, 4x4, la versione limited, siamo al top di Jeep Renegade, ve la proponiamo, a 17.500 euro. Entriamo in casa l'Opel, Opel Crossland X, 1.2 Advance, nuovo, chilometri zero, non state sognando, solo 14.900 euro. Corriamo perché l'Auto Francia, le offerte non finiscono mai, 500L, 1.3 Multijet, 95 cavalli, cambio automatico aziendale, 13.900 euro, ma le 500L partono da 9.900 euro, ne abbiamo oltre 40 a vostra disposizione, 500, 1.2 Lounge, nuova chilometri zero, 11.800 euro, ne abbiamo già parlato anche qui, le 500 chilometri zero, oltre 40 a vostra disposizione. Panda, abbiamo tutto quello che volete, le Panda chilometri zero sono oltre 50 a vostra disposizione, benzino, eventualmente anche con impianto EcoGPL, partono da 7.400 euro, quindi veramente un prezzo spettacolare, 500L, 1.4 Turbo, 120 cavalli, benzina, aziendale, a 11.900 euro, punto aziendale, 1.3 Multijet, 95 cavalli, 8.900 euro, volendo, anticipo zero, qui le rate superano di poco i 100 euro mensili, chi vi dà un'auto pari al nuova con questa rate succede solo qui da noi all'Auto Francia. Toyota Yaris, 1.5 HD, 100, scusate, HSD, ibrida, chilometri zero, a 17.800 euro, Hyundai i10, login, 1.000 con impianto EcoGPL, nuova chilometri zero, 10.900 euro. Siamo nel secondo padiglione dell'autovittura ed occasione aziendale chilometri zero, guardate quante offerte abbiamo per voi, vi ricordo che sono oltre 400 a vostra disposizione, scontro di rotamazione anche sull'usato fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rotamare e potete sfruttare tutte le offerte finanziarie che Autofrancia cuce su misura per voi telespettatori. Tipo 5 porte BD4, 16 valvoli, 95 cavalli, lounge, nuova, chilometri zero, siamo al top della Tipo con un prezzo veramente spettacolare, solo per questo mese, 13.900 euro. Purtroppo siamo giunti in chiusura, come vedete siamo ritornati nell'ishroom delle autovitture nuove di gamma Fiat Alfa Lancia Jeep, avete visto solo alcune delle autovitture d'occasione aziendale chilometri zero che Autofrancia ha messo a vostra disposizione, se non l'avete vista in questo filmato consultate il nostro sito che è super aggiornato, www.autofrancia.it o meglio ancora telefonateci o veniteci a trovare perché siamo aperti 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica. In chiusura vi volevo ancora ricordare gli sconti sulle autovitture nuove, fino a 7.000 euro, quindi sconto veramente pazzesco. Gli sconti avete visto solo alcune delle autovitture d'occasione aziendale chilometri zero ma lo sconto fino al 50% del prezzo di destino, quindi risparmiate fino al 50% del prezzo di destino sulle autovitture d'occasione aziendale chilometri zero oppure se siete in possesso di un'autovittura da rottamare sconto fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. In chiusura, velocemente, i pagamenti li potete scegliere senza nessun problema, potete fare il pagamento per contanti, questo nessuno ve lo vieta o potete sfruttare meglio ancora il TTC Autofrancia, tutto tutto compreso Autofrancia anche qui, Canon è bassissimo e all'interno servizi a 360 gradi, zero pensieri, non pensate più a nulla, assicurazione, tagliandi, cambio gomme, pensiamo a tutto noi. Quindi, come vedete, le offerte qui da noi questo mese non mancano, è veramente il mese giusto per comprare la vostra autovittura, quindi non mi resta che darvi l'appuntamento. Corso Francia 341 a Torino, chiaramente l'Autofrancia, vi aspettiamo per questo mese che è veramente strepitoso. Vi aspettiamo! Corso Francia 341 a Torino, chiaramente la vostra autovittura, vi aspettiamo per la vostra autovittura,